E cambiando di tópico, è un eterno problema, però che ogni giorno c'è un più enfasista. Tratta qui di un fenomeno di taxista pirata. Il ministro di transporte ha un'attenzione per il assunto qui, fuori dal gabinete passato. E non è un assunto che non è facile per solucionare, particolarmente se il proprio usuario non è che ci motiva. E' un punto qui sta arrivando di un riunione tra il taxista e il ministro Otmar Odibar. Nos ha in immagina a chi fuori il ministro di turismo e transporte donando un'impressione di riunione entre un gruppo di taxista e il ministro Otmar Odibar. Tengo un pari punti che noi chiamo attraversi di l'anti. T'abbiamo attraversi con qualcosa che sta passando nella vita diario di un taxista. Per esempio, abbiamo un problema con il traballo di un taxi pirata. Noi chiamo attraversi problemi con il ministro, per andare con il paese e per andare con il paese. Per esempio, è stato arrivato un po' di più. Tengo un po' di lavoro che sta per il taxista. Quindi, sì, abbiamo un tempo che mi chiede per il ministro di riunione, per andare con il paese e per andare con il paese. Per esempio, è stato arrivato un po' di un taxista. Con la vostra esperienza con la riunione qui a Bai, e qui con il feedback che voi ricevete dal ministro Otibar? Buongiorno, è stato arrivato un po' di un buon ambiente. Il ministro è una persona più amena. Nostra trezione è stata puntata in avanti. Il nostro sicuro è stato preoccupato con il, però il nostro sicuro è stato preoccupato. È stato arrivato al terreno qui. Per esempio, in cui è stata arrivato a lei. Nostra cosa sta guardando. Con il nostro sicuro è stato preoccupato. e il ministro è disposto per aiutare, quindi non si spera che questo è il caso, quindi frena e lo che sta passando ora qui con il TKO, con il TKO che sta facendo il lavoro di taxi, quindi il ministro ha fatto il problema.